Gioca bene, gioca bene Passiamo alle notizie del Centro di Servizio per il Volontariato di Napoli. Il 2012 è stato proclamato Anno Europeo dell'Invecchiamento Attivo della Solidarietà tra le Generazioni. Numerose le iniziative anche nel nostro territorio. Maggiori informazioni su www.csvnapoli.it Arriva dal Comune di Napoli la procedura di affidamento delle aree verdi ad associazioni di volontariato, enti o privati cittadini. Per saperne di più www.csvnapoli.it Lunedì 21 novembre, dalle ore 16, presso lo sportello Vesuvio del CSV Napoli, si terrà il quarto appuntamento del laboratorio di progettazione condivisa. Per saperne di più www.csvnapoli.it Si celebra il 20 novembre la giornata mondiale per i diritti dell'infanzia, ventunesimo anniversario dell'approvazione della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Per saperne di più www.csvnapoli.it Il 19 e 20 novembre si terrà il nonno congresso regionale di Lega Ambiente, capire il futuro per cambiare il presente, la forza dell'ambientalismo per vincere le sfide del mondo moderno. Info su www.csvnapoli.it